Nuovi dettagli sul massacro di una famiglia della zona scoperto all'inizio della settimana. Non volevo trasferirmi qui. L'altra casa costava troppo e poi il mio nuovo libro è ambientato qui. Stavolta è una bella storia. Scriverò il libro più bello che la gente abbia mai letto. Sento che sarà un grande successo. Cos'è? Una presa in giro, famiglia in gita, grigliata 1979. È la famiglia che prima viveva qui. Crede siano umici dei seriali? Non lo so. Il primo che ho trovato risale agli anni Sessanta. L'unico legame tra i vari casi è questo simbolo. Il simbolo è associato a una divinità pagana di nome Bagul. È solito consumare le anime dei bambini. Non mi sono mai trovato in una situazione così. I primi cristiani credevano che Bagul vivesse nelle immagini che lo rappresentavano, che costituivano i varchi di accesso al suo regno. I bambini esposti a queste immagini erano più vulnerabili ai rapimenti all'opera di Bagul. Tesoro, che fai? Dipingo. Io voglio dipingerla. Di chi stai parlando? Di Stefani. Viveva qui. Trevor? Che c'è? Cos'è successo? Prendi i bandini. Carichiamo la macchina. Dobbiamo andarcene subito. Chi spettacolo. 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 Grazie.